bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale anche questa settimana abbiamo un nuovo video di grounded questo è un video molto interessante perché dopo l'aggiornamento di opt and easy sono stati aggiunti i dentini da latte milk molar sia i denti da latte che quelli dorati i mega milk molar e in questo video andremo a vedere in quale quali posizioni si trovano alcuni di essi sono un video che proporrò diviso in tre lo farò diviso in zone quindi in questa prima parte andremo un po a vedere tutti i dentini che si riescono a trovare nella zona diciamo del giardino principale questa centrale più la zona della siepe quindi vi lascio il video così riuscirete a trovare tutti i dentini che vi mancano ci vediamo alla fine Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 a tutti.